Allora, buonasera, benvenuto. Benvenuto. No, benvenuto di TTI. Buoni trovati. Ma lei dall'accento non mi sembra di qua però. No, milanese. È di Milano? Eh, l'avevo sentito. Allora, come si chiama? Giuseppe Chiaravallotti. Bravo, bravo. Però mi sembra che il cognome è conosciuto qua. No, è familiare. È familiare, è familiare. Va bene. Lei ha questo strano attrezzo in mano che io non conosco, non ne ho mai visto, non lo so. Che cos'è questo? È una fisarmonica. Una fisarmonica, benissimo. Ma lei sa suonare bene, mi hanno detto. Penso di sì. E a Milano suonate pure una fisarmonica? Certo, certo. Va bene. Allora, questo ospite è venuto oggi al matrimonio e ci è venuto a dare una mano e ci farà sentire. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.